Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere tutti gli ultimi acquisti. Allora, io direi di cominciare con questo Rimmel che ricordo di aver comprato intorno al periodo di capodanno. E' di Rimmel, del super curler 24 ore, mascara a volume e curve. Vi faccio vedere subito allora, è gigante, quindi abbiamo 12 ml di prodotto e la durata è di 12 mesi. Non come lo scontrino, quindi non ricordo il prezzo, ma dovrebbe essere o 9,90€ o 10€. L'altro acquisto fatto più o meno nello stesso periodo è il camouflage di Catrice. Ho provato, visto che ha una coprenza e una pigmentazione molto alta, sicuramente è un correttore da avere. Lo sfrutterò meglio, lo userò sicuramente meglio. Poi, c'è tantissimo prodotto secondo me, quindi già per questo mi piace un sacco. Sono 3 grammi di prodotto e la durata è di 6 mesi. Non vi so dire il prezzo nemmeno di questo, ma dovrebbe essere tra i 3 e i 4€. Purtroppo li ho acquistati un po' troppo tempo fa per ricordarli. Poi iniziamo con degli acquisti super super freschi. Questa è la matita Essence Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 01, che è Black Fever, un nero. E questa è la 02 All Chocolate. Ora vi faccio vedere uno swatch. Vi faccio vedere un po' di guardare un po' i colori, perché ce ne sono diversi. C'è anche il blu e il verde, molto carine. Vi dico che il costo è di 1,89€ l'una, per cui è una matita molto pigmentata, che può essere usata benissimo come eyeliner, con un costo simile, che è pure Long Lasting. A me piace, piace un sacco. Altro acquisto davvero recente è questa matita di Essence, la Lip Liner, nella colorazione 06, che si chiama Satin Mauve, quindi Malva, Lip Liner per una precisa applicazione. Vediamo un po', vi faccio vedere il colore. L'ho già usata ed è il colore delle mie labbra, ma credo che sia soggettivo, perché ce ne sono tantissime tonalità, quindi potete scegliere in base al rossetto, al vostro colore, quella che più vi piace. Ecco, eccolo qua. Intanto ho dimenticato di dirvi anche per queste qualche dato. Allora, all'interno ci sono 0,28 g, ma dal momento che non sono di quelle temperabili, cioè di quelle che sono già temperate, forse se ne spreca veramente pochissime, la durata è di 36 mesi, quindi avete già capito, io le amo queste matite. Qui invece abbiamo 1 g per 36 mesi di nuovo. Quindi, ottimo. L'altro prodotto è questo di Essence, I Like Long Lashes, che è un mascara che volumizza e allunga. L'ho provato e realmente mi è piaciuto l'effetto. Vi dico intanto che il costo è di 3,19 euro. Ha uno scovolino particolare che fa sì che il mascara non appiccichi le ciglia, ma rimangano sempre ben pettinate. Poi, all'interno abbiamo 6 ml di prodotto e la scadenza è di 6 mesi. Speriamo che non si asciughi prima. Vediamo poi altri prodotti acquistati da Sephora, questi due smalti L'Oreal pagati 3 euro con lo sconto. I colori sono Carnal Dentel e Opera Ballerina. Allora, Opera Ballerina lo vedete ora indossato sulle mie unghie. Questo è un particolare bianco molto latticinoso come colore, mentre il rosso Carnal Dentel è questo qui, un rosso fuoco, secondo me, bellissimo. In realtà lo smalto costa leggermente di più, non 3 euro, ma con gli sconti da Sephora sul sito l'ho trovato a questo prezzo. Devo ancora provarli, poi ve ne parlerò meglio. Lo stesso vale per questo smalto di Collistar, della linea Smalto Gloss Effetto Gel, che è comunque un rosso, ma di una tonalità differente. All'interno ha 6 ml di prodotto e la durata è di 24 mesi. Vi faccio vedere lo swatch. E' questo. Questo rosso, bellissimo. E il costo è di 3 euro anche in questo caso. Altri prodotti sempre comprati da Sephora sono questi due smaltini, della solita collezione Color It, però di una collezione differente. Questo dovrebbe essere della nuova. Il colore è qui, Sweet Candy, è un rosa. Vediamo un po' se mette a fuoco, ok? Sweet Candy e questo invece You and Me. Vi faccio vedere lo swatch. Intanto vi dico che in ogni caso ci sono 5 ml di prodotto e la durata non l'ho trovata. Se la vedete voi, fatemelo sapere. Forse sono un po' addormentata io oggi, però fatemelo sapere sul serio, perché non c'è nemmeno negli altri smalti. Il colore rosa è questo e invece quello beige è questo qui. Poi, sempre da Sephora, ho deciso di acquistare anche questi cubettini. Ne ho preso 3, costano 40 centesimi l'uno. Che sono alla fragola? Dovrebbero essere come dei bagnoschiuma, credo. Li userò probabilmente quando sono in viaggio. Ci sono all'interno 18 g di prodotto, ma anche in questo caso non trovo la scadenza. Allora, davvero, se voi avete questi prodotti, fatemi sapere se Sephora che non mette le date di scadenza. O se, ripeto, sono io oggi, imbranata, un'imbranata pazzesca. Dicevo il costo è di 40 centesimi. Parliamo ancora di smalti e vediamo gli acquisti che ho fatto da Kiko. Che sono questi due smalti. Power Pro Nail Aquare. Due rosa, queste rosa cameli e questo non ricordo come si chiami, che dovevano essere scontati. In realtà, arrivata la cassa, nel punto vendita qui a Cagliari, il costo era di 4,90 euro. Allora, questo è lo 02 e questo è il numero 28. Vi faccio vedere subito le tip. Questo è lo 02 e questo è l'altro, il 28. Sono due rosa, secondo me, da avere necessariamente, perché sono molto neutrali, molto semplici, seri e carini. Poi, altri acquisti Kiko sono il Luscious Cream Lipstick, nel numero 500 e 504. Il costo scontato, ovviamente, era di 2,00 euro l'uno. Allora, all'interno abbiamo 3,5 grammi di prodotto e la durata è di 18 mesi. Il numero 500 è un color nude. Ora li apro e ve li mostro. Mentre, il numero 504 è Forcing My Lip Spice Better, perché rimane rosa, un rosa sangue, scuro, molto, molto naturale. Vedete gli swatches? Questo qui è il 500 e questo è il 504. Poi, il finish è molto cremoso, molto. Poi, abbiamo altri acquisti, l'ombretto di Kiko, un ombretto in crema, che volevo assolutamente provare, nella tonalità 0,5 del Cream Crush. Vi faccio vedere subito com'è. All'interno, eccolo qua. Abbiamo 4 grammi di prodotto e la durata è di 6 mesi. Speriamo che duri anche un pochino di più, perché è davvero tanto e non credo di riuscire a finirlo. Quindi l'ho pagato 3,40 euro. Andate un po' a dare uno sguardo da Kiko, perché ci sono veramente dei prodottini stupendi. Ancora, da Kiko mi sono affidata alla mia solita matita. La matita è la Precision Eyebrow Pencil. La colorazione è la 02. Ok, dopo qualche attimo di panico, sono riuscita finalmente. Eccola qui. Quindi abbiamo da una parte il petinino per petinare le sopracciglia, utile per sfumare la matita. Questa è la matita. Molto fine. Per questo c'è il temperino apposito, perché la mina è particolarmente fine. Non riuscirete a temperarlo con altri tempera lapis. Il costo della matita sopracciglia è 4,80 euro. Se non sbaglio scontata. Poi ho acquistato, e secondo me è un qualcosa di pazzesco. La prima volta che lo provo ed è stata una... Non lo so, un'idea che mi è venuta al momento. Questa è l'Eyebrow Fibers. È un mascara colorato, nella tonalità 0,5. Allora, per quanto riguarda la matita, abbiamo 0,55 grammi, con una durata di 36 mesi. Ma in genere io queste matite le termino in frettissima. Poi, questo invece ha 5 ml di prodotto e ha una durata di 6 mesi. Eccolo qua. E il costo di questo mascara colorato è di 5 euro. Il costo è identico a quello del mascara trasparente che avevo già provato e mi ha fatto impazzire. Bellissimo. Quindi ho voluto provarlo stavolta così, insomma, colorato. Poi ancora ho acquistato questo rossetto. Diciamo che è una matitona. Si chiama Vivid Color Lipstick Pencil nella tonalità 0,7. Guardate un po'. E questa qui. A me piaceva, insomma, perché non provarla. Dal momento che il costo era di 1,70 euro. Rimane molto cremosa. Insomma, la proverò meglio e ve ne parlerò. Altri acquisti che invece ho fatto sempre da Sephora, ma non ve li ho mostrati prima perché sono di periodi diversi. Sì, sono sempre da Sephora praticamente. Sono le due mini taglie di Too Faced e Benefit. Allora, ho acquistato la mini taglia del mascara Better Than Sex di Too Faced. E' gigante lo scovolino. Mi piace questa cosa. All'interno abbiamo 4,8 grammi di prodotto per una durata di 6 mesi. Vi dico intanto che il costo è di 10,50 euro. Senza alcuno sconto. Non mi pare che fossero scontate queste mini taglie, nonostante ci siano comunque gli sconti da Sephora. Poi abbiamo questo The Pore Fessional. Il punto primer per uniformare e ridurre, minimizzare l'apparenza dei pori. Allora, all'interno abbiamo 7,5 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. Ma se lo dovessi usare ogni volta che vorrei, questo nel giro di forse due settimane sarebbe finito. È davvero poco. Però ne voglio parlare meglio a parte, cioè parlare esclusivamente di lui in una recensione. Il costo è di 11,90 euro. Per cui vi dico che secondo me 7,5 ml di prodotto sono pochini, non lo so. L'avrei fatto un pochino più grande. Considerando poi il costo che ha, sicuramente acquistare la mini taglia è meglio prima di andare a fare una spesa consistente acquistando il primer appunto regolare che non so quanti ml abbia. Però vi parlerò insomma sia di questo The Pore Fessional sia di Better Than Sex a parte. E non solo, anche degli altri prodotti sicuramente. Quindi state insomma in allerta, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo video. Mettete un like e iscrivetevi se non lo siete ancora. Un bacione, ciao! Grazie!